La Corte d'Assise di Lanciano ha condannato il 71enne Domenico Giannichi a 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario della moglie Luisa Cerelli, 65 anni. Il delitto avvenne a Torino di Sangro il 29 novembre 2019. Quel giorno i coniugi ebbero un litigio mentre erano in automobile. Sceso dal veicolo, Giannichi colpì con un ramo la moglie in fuga, prima in testa, poi sul volto, quindi con una violenta pressione al collo, finì per strozzarla. La Corte, che ha accolto la richiesta di pena del procuratore, ha riconosciuto a Giannichi il vizio parziale di mente, come accertato da una perizia. L'imputato oggi assente in aula e attualmente agli arresti domiciliari in una casa di cura. Il suo difensore aveva chiesto la derubricazione in omicidio preterintenzionale e l'assoluzione per totale incapacità di intendere e volere. Contro la sentenza, la difesa ha preannunciato ricorso in appello.